prepariamo tortelle al nero di seppia andiamo semola di grano duro farina tipo 1 un bel buco al centro mettiamo le uova e aggiungiamo il nero di seppia ora iniziamo a sbattere bene con una forchetta iniziamo a prendere la farina e iniziamo ad impastare impastiamo bene con il palmo della mano facciamo un bel panetto e facciamo riposare per circa 10 minuti ora con un tagliapasta andiamo a formare dei bellissimi quadrati e sopra andremo a mettere il nostro fantastico ripieno a base di ricotta di bufala e nocciole ora pollice e indice andiamo a chiudere i nostri fantastici tortelli chiudiamo per bene sotto e stringiamo continuiamo a lavorare per bene sempre facendo lo stesso movimento mi raccomando di chiudere bene i lati altrimenti poi fuoriesce tutto il ripieno ed ecco qui i nostri fantastici tortelli al nero di seppia